Al via dal prossimo primo maggio sul territorio comunale di Agropoli il servizio di rimozione forzata, trasporto, custodia e restituzione dei veicoli rimossi dalla polizia locale. L'affidamento a cura dell'area vigilanza e polizia locale è stato operato ad una ditta cilentana per il biennio 2021-2023 nel rispetto dell'apposito regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada nel quale si evidenzia che il servizio può essere gestito in proprio dall'ente proprietario della strada oppure può essere dato in concessione biennale a soggetti in possesso dei requisiti richiesti. La ditta si è dichiarata disposta essendo abilitata anche a svolgere lavori di manutenzione sui veicoli di servizio della polizia municipale a costo zero. Saranno a carico dell'ente le sole spese per l'acquisto dei materiali di ricambio e di consumo. Il concessionario che offrirà il servizio carroattrezzi applicherà le tariffe stabilite con apposita delibera di giunta municipale numero 293 del 22-12-2020 come rivalutate secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo al 31 dicembre dell'anno 2019. A partire dal mese di maggio 2021, afferma il sindaco Coppola, il comune di Agropoli si doterà del servizio carroattrezzi un ausilio importante a sostegno dell'attività della polizia municipale rispetto alle cattive abitudini di taluni automobilisti di parcheggiare in malo modo e in sosta vietata creando problemi alla circolazione. Risulterà certamente utile per un maggiore ordine e per la sicurezza della viabilità comunale.